Musica Punto nascita polla, tre emergenze all'unità operativa complessa di ginecologia in pochi giorni De Laurentiis, testimonianza dell'importanza del servizio Strada sul Monte Cervati a Sanza, il Tar Boccia Italia Nostra Operazione Alto Impatto, volanti del mare nel Cilento Roscigno, martedì 11, il giornalista Rai Federico Quaranta ospite della Fondazione Montepruno per parlare del valore dei piccoli borghi Salernitana, settimana cruciale per la scelta del nuovo direttore sportivo Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale L'importanza di poter contare su un punto nascita sul territorio è emersa negli ultimi giorni con gli operatori dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia di Polla che hanno dovuto gestire tre emergenze che mettevano a rischio la vita delle madri e dei nascituri Tre emergenze superate brillantemente per De Laurentiis e la testimonianza dell'importanza del servizio sul territorio Vediamo i dettagli nel servizio Ennesima testimonianza dell'importanza di poter usufruire di un presidio ospedaliero ed ancor di più di un punto nascita sul proprio territorio Commenta così il dottor Francesco De Laurentiis i casi che si sono verificati nelle scorse ore e che in pochi giorni hanno visto gli operatori del reparto di ostetricia e ginecologia dover affrontare ben tre criticità derivate dal distacco di placenta con rischio sia per le mamme che per i nascitori L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nella notte e fortunatamente sia la mamma che il bimbo sono ora in buone condizioni nonostante i rischi corsi Un altro caso simile si era verificato nel fine settimana con rischi gravissimi per la bimba nata prematuramente ma fortunatamente immediatamente stabilizzata nelle condizioni prima di provvedere al trasferimento presso l'ospedale di Salerno dove secondo quanto reso noto le sue condizioni sono in rapido miglioramento Altro caso di distacco di placenta si è verificato non molti giorni fa e ancora una volta l'immediato e tempestivo intervento degli operatori del reparto diretto dal dottor De Laurentiis hanno consentito di ridurre al minimo i rischi per mamme in nascituro salvaguardando la loro vita e la loro salute Tre emergenze affrontate presso il punto nascita del Luigi Curto che testimoniano l'importanza di poter usufruire di un presidio ospedaliero nelle vicinanze e soprattutto come ricorda il dottor De Laurentiis di un punto nascita in quanto branca medica che più di altre deve fare i conti con un'alta probabilità di imprevisti e che pertanto necessita di immediatezza nella risposta sia clinica che chirurgica dovendo tutelare due vite umane e di conseguenza con una complessità duplice Operatori e amministratori, sottolinea il dottor Francesco De Laurentiis devono dunque adoperarsi affinché un bene sociale di tale importanza come il punto nascita non venga sottratto al territorio è giusto che l'intera comunità comprenda la preziosità di avere vicino a casa un tale servizio e si adoperi per difenderlo al fine di tutelare un diritto sancito dalla Costituzione ossia il diritto alla salute Per i responsabili del reparto di ostetricia e ginecologia è fondamentale investire sul punto nascita non a caso gli operatori del reparto sono costantemente impegnati non solo a richiedere nuovo personale ma anche nell'ambito dell'individuazione di nuovi servizi da offrire ai pazienti come servizi informativi e di supporto e nuove avanzate attrezzature capaci di adeguare il reparto ai progressi della medicina Attenzione la chiede in special modo ad amministratori e politici del territorio è importante, sottolinea De Laurentiis, che i rappresentanti politico-istituzionali si impegnino affinché le nostre richieste possano essere ascoltate Gli ultimi giorni del punto nascita di Polla infatti sono stati determinanti per mettere in evidenza l'importanza del servizio In tutti e tre i casi è stato necessario procedere con estrema celerità con interventi chirurgici Intanto il continuo rischio e chiusura porta ancora una volta a rendere conto dei numeri del reparto che al momento si aggira tra i 165 e i 170 per questo 2024 Voltiamo pagina I lavori di riqualificazione della strada per il Cervati possono andare avanti Il Tar di Salerno ha bocciato le associazioni ambientaliste che avevano presentato ricorso contro il Comune di Sanza e altri enti I dettagli Via libera alla riqualificazione della strada per il Cervati Il Tar sezione di Salerno ha bocciato Italia Nostra che aveva presentato ricorso contro il Comune di Sanza e altri enti perché preoccupata per l'impatto ambientale dell'opera Dopo l'udienza che si era tenuta lo scorso 30 aprile Ieri il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato irricevibile il ricorso per la sua tardività I lavori erano cominciati nel 2022 Il ricorso è stato presentato due anni dopo Non si giustifica, secondo il Tar, la pretesa vantata da Italia Nostra che semmai vantasse perplessità e dubbi sull'opera ha presentato ricorso solo ora nonostante i lavori siano a buon punto per il termine degli stessi Si chiude così una vicenda che ha creato molti danni d'immagine alla comunità di Sanza commentano dal Comune Comunità che ora è pronta a chiedere un risarcimento ad Italia Nostra e a tutti coloro che hanno sostenuto il ricorso per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro Grande soddisfazione per aver sempre agito per il bene comune e per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità sempre nel rispetto dell'ambiente e della natura ha affermato il sindaco Vittorio Esposito Grazie all'Avvocato Lentini e a tutti i legali che hanno seguito questa vicenda che ha creato sconcerto e mortificazione in tanti cittadini che amano e custodiscono la montagna e il Cervati Noi non facciamo polemiche quello che ci interessa è il bene della comunità che continuiamo a perseguire a testa bassa e con impegno quotidiano Ora verifichiamo anche se e chi dovrà pagare danni d'immagine causate alla comunità di Sanza ha concluso il sindaco Esposito L'Arma dei Carabinieri celebra 210 anni di vite per l'occasione anche a Salerno il Comando Provinciale ha deciso di organizzare celebrazioni finalizzate anche alla commemorazione di militari che hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle loro attività a tutela dei cittadini Domani, mercoledì 5 giugno presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno si terrà dunque la cerimonia per i festeggiamenti dei 210 anni dalla fondazione dell'Arma Nel corso della cerimonia saranno inoltre ricordati anche i Carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena rispettivamente di 29 e 23 anni medaglie d'oro al valor militare barbaramente uccisi il 12 febbraio del 1992 a Ponte Cagnano Faiano quando avendo notato un'auto sospetta si sono avvicinati chiedendo i documenti i malviventi a bordo dell'auto una volta scesi hanno aperto il fuoco armati di mitra prima contro Claudio Pezzuto e successivamente contro Fortunato Arena nonostante i suoi tentativi di mettersi in salvo una tragedia immane che l'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno ricorderà in occasione della cerimonia di anniversario della fondazione a 32 anni dal delitto l'inizio della cerimonia è previsto per le 9 presso il Lido del Carabiniere in via Generale Clark alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Salerno all'evento prenderanno parte anche gli studenti degli istituti di istruzione salernitani inoltre nel corso dell'iniziativa saranno anche resi noti i dati relativi alle attività eseguite dall'Arma dei Carabinieri di Salerno da gennaio a maggio 2024 Controlli sono stati effettuati dalla Polizia del Mare nel weekend appena trascorso nell'ambito dell'operazione alto impatto via mare predisposti dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio in concomitanza con la tre giorni del meeting del mare che si è svolta a Marina di Camerota Vediamo come è andata 100 controlli a persone e circa 50 imbarcazioni attenzionate e il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Mare nel weekend appena trascorso nell'ambito dell'operazione alto impatto via mare predisposti dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio in concomitanza con la tre giorni del meeting del mare che si è svolto a Marina di Camerota nella Baia di Lentiscelle richiamando tante presenze gli uomini della sezione mare della Polizia di Stato della questura di Salerno sono stati impegnati in un'operazione di pattugliamento e controllo del litorale cilentano dove il festival di musica e cultura è stato di richiamo per tanti giovani facendo registrare oltre 20.000 presenze per garantire maggiore sicurezza e prevenzione gli equipaggi delle moto vedette e delle moto d'acqua della Polizia di Stato agli ordini del sovrintendente Alfonso Vicinanza hanno permesso un monitoraggio della fascia litorale assicurando una copertura capillare e una presenza costante sul territorio per la prima volta le volanti del mare i cui compiti istituzionali vanno dalla Polizia Marittima e Vigilanza a controlli nelle zone interdette alla navigazione alla tutela dei siti marini protetti e soccorso pubblico hanno pattugliato la costa cilentana a sud della provincia di Salerno per un controllo del territorio e prevenzione dei reati da venerdì a domenica non sono passati inosservati gli agenti di polizia in sella a scooter acquatici che hanno vigilato in modo attento soprattutto in alcuni punti della costa di Marina di Camerota un'operazione che si è conclusa senza criticità che ha confermato l'importanza della vigilanza in mare in zone ad alto richiamo turistico come fortemente voluto dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio a tutela della sicurezza pubblica per garantire ed incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nel Cilento i servizi ad alto impatto con controllo delle volanti sia su strada che a mare potrebbero estendersi anche per i prossimi weekend e per l'estate per un costante umenotraggio del territorio i carabinieri della stazione di Nocera Inferiore con l'ausilio dei colleghi della stazione di Nocera Superiore hanno arrestato un 46enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi nei riguardi della moglie i carabinieri allertati da una telefonata dal 112 sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo bloccandolo mentre stava picchiando la compagna la donna ha raccontato ai militari di altre violenze subite in passato l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari cambiamo argomento i ragazzi del liceo scientifico Pisacane di Padula si preparano a salutare l'anno scolastico con una giornata densa di eventi che prenderà il via in mattinata sabato con il Pisacanes Got Talent e proseguirà poi in serata con la danza con la Flowers Night vediamo sta per chiudersi l'anno scolastico e al liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula anche quest'anno è in programma una giornata evento per dare spazio al talento degli studenti una giornata l'8 giugno che sarà seguita poi da una serata danzante per dare ai ragazzi l'opportunità di divertirsi e di salutare un altro anno di scuola ricco di soddisfazioni e di ottime risultati raggiunti fervono infatti i preparativi per il Pisacanes Got Talent e per il ballo di fine anno denominato per questa edizione Flowers Night un format che si ripropone dunque quest'anno dopo la manifestazione organizzata in chiusura dello scorso anno scolastico e segnata da momenti di grandi emozioni con al centro gli studenti e le loro tante esibizioni due eventi che renderanno speciale la giornata del prossimo sabato 8 giugno a cui studenti e docenti si stanno preparando con entusiasmo per salutare al meglio l'anno scolastico 2023-24 le due attese iniziative impegneranno gli alunni per l'intera giornata di sabato si partirà infatti mattinata con il Pisacanes Got Talent che prenderà il via alle 9.30 presso l'istituto a Padula come avvenuto lo scorso anno anche per questa edizione sono attese tante esibizioni da parte degli studenti che ancora una volta potranno mostrare il proprio talento e la propria bravura nell'arte della danza della musica o della recitazione a seguire dall'eventi e poi previsto il ballo di fine anno una serata a tema la Flowers Night per la quale è previsto anche un dress code molto semplice bisognerà portare con sé un fiore ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti a tra poco bentornati in studio proseguiamo con il nostro telegiornale la fondazione Montepruno sempre più impegnata per la valorizzazione delle aree interne del territorio con la consapevolezza del loro valore un impegno che per martedì prossimo 11 giugno porterà presso l'auditorium Michele Albanese della sede legale della BCC Montepruno il noto giornalista Rai Federico Quaranta conduttore di Linea Verde che parlerà di come valorizzare i piccoli borghi vediamo la fondazione Montepruno sempre più punto fermo per il proseguo delle attività di carattere sociale culturale e valorizzazione del patrimonio presente nelle aree di competenza della BCC Montepruno un nuovo passo verso la direzione già tracciata negli anni dalla banca Montepruno e l'evento in programma martedì prossimo 11 giugno a Roscigno quando presso l'auditorium Michele Albanese della sede legale dell'istituto di credito si terrà un incontro con il noto giornalista Rai e conduttore di Linea Verde Federico Quaranta per un evento informativo finalizzato a fornire strumenti e certezze che possano poi spingere verso una maggiore consapevolezza del valore delle aree interne come un borgo sconosciuto può diventare luogo di interesse e il tema dell'incontro promosso dalla fondazione presieduta da Michele Albanese che negli anni ha sempre investito sulla valorizzazione dei piccoli borghi ed in particolare della piccola Roscigno paese da cui la storia della banca Montepruno è partita l'iniziativa che porterà negli Alburni il noto giornalista può contare sul supporto e la collaborazione di D-Live Media del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diana Alburni e naturalmente della BCC Montepruno una nuova iniziativa che va ad aggiungersi al progetto legato alla realizzazione del docufilm che sarà presentato il prossimo 3 luglio a Roma contribuendo così a puntare riflettori a concedere massima visibilità a zone che al momento sono poco conosciute ma che presentano bellezze naturali e paesaggistiche oltre che culturali senza eguali la presenza di Federico Quaranta ha affermato il presidente della fondazione Montepruno Michele Albanese rappresenta un altro tassello del nostro costante impegno a favore delle aree interne non è stato facile averlo sul nostro territorio ed il suo intervento speriamo possa dare maggiore fiducia e slancio a chi vive investe e vuole continuare ad investire nel territorio interno del Cilento e degli Alburni magari credendo maggiormente nelle possibilità che abbiamo lanciando un vero e proprio messaggio positivo di speranza vogliamo continuo albanese che Federico Quaranta possa visitare anche parte dei nostri borghi e trarre spunti di analisi da quei luoghi che stanno diventando il simbolo di una strategia di valorizzazione che mette al centro aree con potenzialità uniche ma spesso inespresse l'impegno della fondazione Montepruno spiega albanese è costante e con attività di grande qualità come questa vuole proseguire nel suo percorso di supporto alla comunità provando in tutti i modi a far comprendere che anche in queste zone ci sono occasioni e possibilità per creare valore e sviluppo spero sinceramente continua il presidente che la nostra fondazione possa recuperare il tempo perso e che possiamo finalmente vedere i nostri borghi tornare alla loro antica gloria non possiamo permetterci di perdere altre occasioni conclude e dobbiamo agire con determinazione e impegno per garantire che il nostro patrimonio storico e culturale sia preservato per le generazioni future questa mattina a Sanza nella villa comunale sono state consegnate le prime bici patenti ai bambini delle classi quinte e delle elementari che hanno preso parte al progetto Bici Bici Bicicletta agli alunni delle altre classi e ai bambini dell'asilo è andato un attestato di partecipazione i dettagli si è tenuta questa mattina a Sanza nella villa comunale di piazza San Francesco la consegna delle bici patenti agli alunni delle classi quinte e delle elementari nell'ambito del progetto di educazione civica stradale Bici Bici Bicicletta ai bambini delle altre classi delle elementari e ai piccoli della scuola dell'infanzia invece è andato un attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza stradale promosso dal comune di Sanza dall'arma dei carabinieri compagnia di Sapri con la stazione di Sanza e con il coinvolgimento dell'istituto comprensivo di Sanza Buonabitacolo a consegnare le bici patenti al termine del percorso formativo per i bambini per raccontare i pericoli della strada e le regole essenziali di educazione stradale sono stati il maresciallo Massimiliano Castellino comandante della stazione carabinieri di Sanza e il sindaco Vittorio Esposito questa mattina dunque i bambini si sono cimentati nel percorso ad ostacoli allestito nella villa comunale arricchito da segnaletica stradale il progetto bici bici bicicletta si compone di una parte teorica con la presenza del comandante della compagnia carabinieri di Sapri il capitano Francesco Fedocci e di una parte pratica con l'obiettivo di insegnare ai bambini dai 3 ai 10 anni ad andare in bici rispettando il codice della strada in questo modo si formeranno bambini in grado di muoversi autonomamente in sicurezza nella tragitto casa-scuola l'obiettivo di questo progetto è la continuità nel tempo infatti l'idea è di riprogrammarlo ogni anno con il coinvolgimento delle scuole e della società civile ora lo sport mentre il Venezia ha superato la Cremonese ha festeggiato il ritorno in massima serie a due anni dalla retrocessione le tre retrocesse nell'ultima stagione Sassuolo Frosinone e Salernitana si preparano al prossimo campionato cadetto dove ci saranno anche Samp e Spezia al secondo campionato di fila in B dopo la retrocessione dalla massima serie vediamo il Venezia ha superato la Cremonese ed ha festeggiato il ritorno in massima serie a due anni dalla retrocessione i lagunari hanno raggiunto come Parma il club ducale ha impiegato tre stagioni per ritrovare la serie A il Venezia 2 mentre Genoa e Cagliari una sola stagione anche la Cremonese ha provato a risalire immediatamente al piano superiore ma si è fermata ad un passo dal traguardo al via del prossimo campionato cadetto ci saranno Samp e Spezia al secondo campionato di Filembi dopo la retrocessione della massima serie cui si aggiungeranno le tre retrocesse dell'ultima stagione Frosino e Sassuola e Salernitana la storia e la statistica dicono che nel giro di un paio d'anni che il retrocesso dalla massima serie riesca poi a farvi ritorno ma ci sono anche le eccezioni Spalle e Benevento sono esempi da non seguire e dal tempo stesso da studiare per capire quali errori non si debbano commettere la Salernitana sia di averne fatti tanti nel recente passato e lo ha ammesso anche il presidente Irivolino che ieri ha fatto un saltafrosinone per il membro Angelo Irivolino riservato per la sua terza elezione alle squadre giovanili c'era anche Stefano Colantuono che ha smesso i panni dell'allenatore della prima squadra per tornare a rindossare quelli di responsabili del settore giovanile il suo contributo alla ripartenza della Salernitana in questa fase è sicuramente molto apprezzato dal presidente e dalla di Milan per anni con Guido Angelozzi e sicuramente avrà speso più di una buona parola per l'esperto dirigente ora il profesione magari avrà anche lavorato di diplomazia per cercare di aggiungere argomenti interessanti alla corte già molto serrata della proprietà Irivolino sa che c'è bisogno di un manager che possa gestire tutta l'area tecnica ed avere il controllo di tutte le figure che gravitano attorno alla squadra anche Ostio un dirigente che ha lavorato in passato con Colantuono ed è considerato ma al momento si aspetta la decisione di Angelozzi bisogna sciogliere in fretta il nodo per poter dare il via al mercato perché c'è necessità di trovare un equilibrio tra necessità di bilancio e ragioni più strettamente tecniche e del resto solo dopo aver ingaggiato il nuovo DS la Sorentana potrà prendere in esame la candidatura dei possibili allenatori E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi grazie per averci seguito continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti